Eccolo qui, il primo capitano non italiano del Pistoia Basket, della Deflex. Come ti senti in questo ruolo? Sono davvero contento, è un privilegio essere il capitano di questa squadra, cercherò di dare il massimo e di essere anche un esempio per la squadra e di dare il massimo per i colori. Agli arbitri cosa dirai? Credo sia meglio per me non parlare con gli arbitri perché ogni volta che ci parlo finiscono i guai, quindi credo che mi limiterò a stare zitto e a far parlare altri. Sta per cominciare il campionato, anzi il campionato è già cominciato, deve ancora farlo la Deflex a Capodorlando. Che squadra hai visto, la tua, e come si presenta questa prima partita? Siamo un team giovane, non ci siamo ancora allenati insieme da molto tempo per i problemi che tutti poi conoscete, però sono convinto che la partita di Capodorlando potremmo giocarcela, sicuramente noi andremo lì per fare la nostra partita e speriamo di dare il massimo. A fine stagione saresti contento se? Se arrivassimo ai play-off, ma non solo se ci arrivassimo, ma anche se riuscissimo a superare la prima fase. Allora... Um, I think we...